Questo è il posto interno di un citofono Urmet Smile. A questi due piedini ho collegato l'alimentazione 12 volte alternata del citofono e sul contatto normalmente aperto del relais ho preso i due fili che vengono messi in parallelo al pulsante di apertura del cancello. Questo poi lo chiudo all'interno della scatola e con Alexa riesco a pilotare il cancello. Ecco qua ho fissato di nuovo il telaio del posto interno alle viti e questo è l'interruttore in cui ho portato in parallelo ai fili che già c'erano quelli che escono dal relais. Ho rimesso in sede tutto il citofono, il posto interno e quindi possiamo provarlo. Alexa attiva cancello. Ok. Ok, il cancello è in apertura.